Allora, buonasera, siamo alla prima partita di questo training camp, abbiamo Oliviero Tim contro il Mardatico Tim, presentatevi. Stefano Spagnolo, De Marino Giorgio, Ida Salvatore. Che ci fai? Mister. Ah, il mister, ok. Aspettate, voi siete della squadra di? Oliviero Tim. Oliviero Tim, ok. La partita termina per un parigio, un 3 a 3. Allora, all'ultimo minuto infatti hanno pareggiato. Complimenti. Allora, stanno venendo pure gli altri. Se qualcuno... Vieni, vieni. Tu che sei della squadra? Marzatico Tim. Che nome? Coach, la partiera. Marzatico è il difensore. Ok, ah, tu sei proprio il capitano quindi. Allora, questa partita com'è andata? Parlano prima loro? Ok. È stata una bella partita combattuta fino all'ultimo, però siamo riusciti a conquistare il parigio. Ah, no, pensavo alla vittoria, dici? Il parigio, il parigio. Quindi limitavi a un parigio? No, io pensavo che vincevamo con grandi gol di scarto, ma la squadra era forte, era più grande, abbiamo avuto molte difficoltà. Ho capito. E invece tu? Allora, ha segnato dell'Olivero Tim De Marino. Bartiromo è spagnolo, tu sei spagnolo, vero? A chi lo dedichiamo questo gol? A nessuno, perché è un pareggio quindi... A Giorgio De Marino. Ok, a Giorgio De Marino. Oppure tu hai segnato? Ok, tu a chi lo vuoi dedicare? A mamma, a Melanie. A Melanie. Va bene, ragazzi. Invece il Marzatico Tim... Arrivederci in momenti. Ciao. Il Marzatico Tim, il capitano, è amo. Com'è andata la partita? Diciamo, non ci siamo trovati molto bene rispetto all'ultima partita. Dobbiamo giocare meglio. I due migliori in campo stati loro. Ha fatto una bella partita. Non disprezzando gli altri, però. Li vuoi inquadrare? Mi piace? Guarda là, va. Vai, inquadra, mi piace. Guarda. Sembra che hanno fatto una giornata di lavoro. Non ti buttate a terra, nessuno vuole parlare. Era stressante. Un pochino alle tre del pomeriggio. Sì, è brutto. Non posso? Vabbè, della squadra vostra invece ha segnato due gol Punzo. Chi è? Eccolo là, Punzo. E poi un gol Orcesini. E sta sempre lì. Ok. E infatti... Vabbè, però ha detto il capitano che siete stati i due migliori in campo, è vero? No. Ha fatto una bella parata. Ha fatto una bella parata sulla Punizio. E abbiamo giocato bene noi. Ci fidiamo del capitano. Va bene. Però complimenti, dai, un pareggio comunque per un training che... Cioè, comunque loro erano più piccoli, quindi... È più una sconfitta che un pareggio per noi. Sì. Che no è... Che no è... E' abum, ero più piccerillo. Non è... Vabbè, qualcos'altro, ragazzi? Sì. È l'ultima squadra a essere iscritti. Speriamo bene. Ma se è qualcuno di nuovo che giocherà al torneo, oppure siete... Cioè, questa è la squadra. Lui, lui è nuovo. E lui, vieni qua, vieni a... Portiere, no? No, no, no. È il nostro leader. Ok. Chi è stato secondo te il migliore in campo, Marzatico? Tutti migliori in campo. Ma come sei abbronzato? Sei andato a mare? Sempre così. Vabbè, ragazzi. Complimenti. Ci vediamo alla prossima, all'inizio del torneo. Va bene? Ciao. All'inizio del torneo.